Jennifer Lopez è il suo flop di This Is Me Now, abbiamo parlato l'altra volta che Jennifer Lopez ha messo 20 milioni di tasca sua per questo suo progetto, due film, un documentario ed un lungometraggio, un film di un'ora si può definire lungometraggio? Un tour con un sacco di date, poi a marzo tutto cancellato perché praticamente doveva essere ribrandizzato perché non ha venduto praticamente biglietti ed è risultato come una sorpresa, no? Io stesso mi sono chiesto ma com'è possibile? C'è qualcosa che non va? Come mai un'artista famosa a livello internazionale come Jennifer Lopez annuncia un tour con due film e nessuno sembra essere interessato? Ebbene ragazzi, io ho visto entrambi i film The Greatest Love Story Never Told e This Is Me Now e ho capito perché. Una volta visti i due film, innanzitutto la prima sensazione che invade il mio corpo è rivolgo queste due ore e mezzo della mia vita indietro, assolutamente, non sto scherzando, non mi sto scherzando ragazzi perché quello che ho visto è assurdo, non so se qualcuno di voi l'ha già visto, se non l'avete visto vi faccio questo servizio di raccontarvi quello che si vede e credetemi. E sono fra lo scioccato e il disturbato perché disturba quello che si vede in questo film, però mi sono chiarito il motivo, cioè adesso mi è chiaro come l'acqua, mi è chiaro come il sole, motivo per cui questo tour si è rivelato un flop. Il film This Is Me Now è praticamente un film che dura un'ora ed essenzialmente lo si può definire un musical, praticamente parla di come lei, negli anni, ha imparato ad amare se stessa. E attraverso l'amare se stessa ovviamente ha potuto anche imparare ad amare l'altro. È un film che dura un'ora, ci sono praticamente tutte le canzoni dell'album, ma c'è un problema in questo film. Vi dico soltanto che inizia con un cuore di metallo che pompa all'interno di una fabbrica e i lavoratori di questa fabbrica nutrono questo cuore con petali di rosa. Quindi, diciamo che già si capisce che è un asset fantasioso. Il cuore che si vede all'interno di questa fabbrica è il cuore di Jennifer Lopez, il quale inizia ad avere problemi e per questo poi non batte più, si ferma. I petali diventano neri e poi tutti iniziano a ballare. Successivamente Jennifer Lopez praticamente fa vedere sempre tutto ballando e cantando come è passata da un matrimonio all'altro. Si è sposata tre volte prima di sposarsi con Ben Affleck, prima con un cameriere, poi con un ballerino e poi con Mark Antony da cui ha avuto due figli. Con il primo è durato il matrimonio 11 mesi, con il secondo un anno e con il terzo comunque sia 10 anni, no? Il problema qual è? Che lei fa vedere praticamente questo percorso della sua vita come se è stato semplicemente un errore dopo l'altro. Lei fa vedere il primo matrimonio, il secondo matrimonio, il terzo matrimonio. Li fa vedere come se fossero stati una cosa frenetica in cui lei passava dall'uno all'altro semplicemente perché probabilmente non sapeva cosa fare. Cioè lo presenta un po' come una cosa frivola e onestamente quello che mi sconvolge di entrambi i progetti è che nel raccontare questa narrativa, no? Io capisco che lei abbia fatto questo progetto, no? L'album This Is Me Now per valorizzare il fatto che adesso lei sia ritornata con Ben Affleck. Il quale tra l'altro la supporta con l'amore che soltanto un marito riesce a trasmettere. Però secondo me dall'altro lato si chiede lui stesso forse è un progetto troppo azzardato. Cioè forse non c'è motivo di mettere su tutta questa pantomima. In un punto del documentario mi sono dimenticato che lei fa vedere che in questi anni in cui lei è stata sposata con altre persone Ben Affleck e lei si mandavano delle lettere d'amore. E siccome lei doveva preparare questo progetto queste lettere d'amore lei ha pensato bene di farle leggere al team. Quindi essenzialmente di fronte alle telecamere per l'obiettivo del film lei praticamente dichiara che mentre è stata sposata con tre altre persone lei si mandava comunque sia lettere d'amore con Ben Affleck. Che non è una cosa molto lusinghiera né nei confronti dei tuoi figli che comunque sia in questo progetto non spuntano mai. Lei non si identifica praticamente per niente come madre è semplicemente lei come ragazza innamorata e rimane con la testa di una ragazza innamorata. E poi Ben Affleck ovviamente questa cosa non la sapeva che lei ha fatto leggere le proprie lettere d'amore. Quindi in un certo senso è anche un'invasione di privacy nei confronti di lui. Il quale tra l'altro avrebbe preferito non fare questo progetto perché dice per me questa è una cosa privata, è una storia che appartiene a me, a lei non c'è bisogno di diciamo renderla pubblica. Quindi in un certo senso in questo progetto lei è molto egoista per il fatto che racconta una storia che non riguarda soltanto lei ma lei la racconta come se fosse l'esclusiva protagonista. Quasi che come se la sua importanza sia superiore a quella di Ben Affleck il quale preferirebbe mantenere tutto per sé e per lei e nei suoi ricordi. E invece deve vedere che la propria storia diventa un progetto e lo deve pure sostenere perché sta ancora con lei. Quello che mi sconvolge di più essenzialmente è che è vero che sei stata sposata e hai avuto tre matrimoni però nel frattempo hai avuto anche due figli dal terzo matrimonio no? Quindi non sarà stato tutto un errore, non sarà stato tutto semplicemente un modo per ritornare al tuo amore originale. Ci sarà stato qualcosa che hai fatto di buono no? Hai avuto due figli no? Ma dove cazzo sono questi due figli? Questo mi chiedo. Non si vedono, lei non ne parla, non accenna neanche a questi due figli. Come se tutto fosse stato dovuto semplicemente per ritornare a Ben Affleck, il suo primo amore che poi ha abbandonato per ritrovarlo alla fine. La fine non della vita, la fine di recente no? Io trovo sconvolgente il fatto che comunque sia una donna che diventa mamma e che io nel mio piccolo, prima di conoscere anche la storia di Alessia Pifferi, pensavo che comunque sia una donna che diventa mamma in un certo senso trova un completamento di se stessa. Poi tra l'altro non è che ci hai fatto un figlio, ci hai fatto due figli con Mark Anthony, ci sei stata dieci anni. Può essere mai che sia stato semplicemente un errore? Lo trovo a dir poco, poco rispettoso questa narrativa di questo progetto, di entrambi i progetti. Perché poi, questo è This Is Me Now, in The Greatest Love Story Ever Told, lei praticamente fa un documentario di un'ora e mezza su come ha realizzato This Is Me Now. Quindi praticamente è tipo metà cinema, il documentario che parla del film. Un'altra cosa sconvolgente, oltre a vedere questa mamma che praticamente non si identifica come mamma, perché a guardare entrambi i prodotti è evidente che lei è rimasta con la mentalità da bambina, ma allo stesso tempo è anche una donna abbastanza esaltata. Questo progetto arriva dopo vent'anni di silenzio praticamente, perché l'ultimo album che lei aveva fatto era This Is Me Then, nel 2002, e adesso This Is Me Now. Quindi questa sono io prima, allora, e questa sono io adesso, essenzialmente. E questo This Is Me Now arriva come la continuazione logica di This Is Me Then, come se volesse raccontare il completamento della storia. Il problema è che lei racconta la storia e il fatto che deve girare questo film come se fosse una missione da cui dipende tutta l'umanità. Cioè, lei parla innanzitutto di questo film come se fosse una cosa che lei lo deve fare per salvare il mondo, perché lei dice Io devo raccontare questa storia, la gente deve sapere, perché magari se c'è qualcuno che si identifica con me, io lo salvo. Allora, innanzitutto per identificarsi con te, uno deve essere milionario ed infantile. Quindi non è che parli ad una nicchia così estesa. Di questo provano il fatto che il concerto non ha venduto. Ma soprattutto, un'altra cosa che diventa evidente durante il corso del documentario, è che lei, essenzialmente, la narrativa se l'è costruita a tavolino. Ma di sostanza, di polpa, c'è ben poco, perché lei racconta, no? Quando io ero piccola, nel Bronx, mio padre dormiva sempre e mia madre era narcisista. Questa cosa, questa, questa asset mi suona familiare. L'altra volta dovevo preparare un monologo per lo stand-up, perché ogni tanto vado qui negli open mic e faccio stand-up. E nel mio monologo, appunto, parlavo di famiglia disfunzionale, ovviamente con ispirazione alla mia esperienza. E dicevo proprio che ricordo mio padre nella stessa posizione di Tutankhamon, perché anche io sono nato in una famiglia in cui mia madre ha evidenti tratti narcisisti. E mio padre dormiva sempre, perché probabilmente depresso. Comunque sia, ognuno poi elabora i traumi della propria vita in un modo o nell'altro. C'è chi va dallo psicologo, chi fa molta autoanalisi, come il sottoscritto, e c'è chi fa un progetto multimilionario. Però il problema qual è? Che lei dice, mia madre era narcisista, mio padre dormiva sempre perché lavorava di notte. Ok. Che cosa ti è successo, no? Cioè, tua madre è narcisista. Che cosa ti faceva tua madre narcisista? Che esperienze hai vissuto? Che traumi ti hanno segnato? Niente. Non dice niente riguardo a questo. Lei dice, ah, ho vissuto nel Bronx. Ad un certo punto c'è una scena in cui lei, preparando uno dei tanti balletti, si vede con i capelli spettinati davanti allo specchio, e se li porta avanti e se li scombina dicendo, questi capelli così mi ricordano come quando io ero una bambina e giravo nel Bronx. Allora, tu puoi essere che vivi nel Bronx, ma se vivi in un attico di un palazzo è la tua famiglia comunque benestante perché Jennifer Lopez e le sue sorelle andavano a scuola privata. Quindi vuol dire che tanto poveri non erano. Cioè, tu corri per le strade del Bronx perché magari c'hai la tua comitiva nel Bronx, ma ciò non vuol dire che hai vissuto una vita da disgraziata. E se hai vissuto una vita da disgraziata e sei Jennifer Lopez e mi racconti la tua storia, dimmi che cazzo di situazioni hai vissuto in un certo senso, no? Invece no, lei non dice niente, lei dice soltanto che ha avuto sua madre e suo padre da questi dettagli e non dice assolutamente più niente. Quindi un po' la cosa lascia pensare che sia una storia pompata, che lei essenzialmente si sia costruita questa narrativa di bambina povera e sfigata, Jenny from the block, ma non dà nessun dettaglio, non dà nessuna informazione. Cioè, non c'è niente che ti faccia provare empatia proprio perché manca la storia. E probabilmente la storia manca perché non ha avuto questa vita così sfigata, non è stata così, diciamo, bistrattata, ultima fra gli ultimi. Perché altrimenti, se avesse qualcosa da condividere, la spiattellerebbe lì, la metterebbe a disposizione dei fans. Nel film, che comunque sia, io ve li racconto non soltanto perché così anche voi sappiate quello che succede nel film e nel documentario, ma anche e soprattutto perché almeno io ammortizzo queste due ore e mezza della mia vita che ragazzi, veramente, veramente, mi sento quasi preso in giro da questo progetto. Adesso veramente mi è tutto chiaro e capisco perché le persone non abbiano voluto comprare i biglietti. Perché la storia di una persona che ha una storia come tante. Ma dov'è questa greatest love story, la più grande storia d'amore mai raccontata? Ma Liz Taylor si è rivolta nella tomba. Liz Taylor si è sposata otto volte e tra l'altro due con la stessa persona. Cioè, ma dove la racconti questa storia? Cioè, vedete anche un poco l'ego smisurato di questa donna che crede evidentemente innanzitutto di avere una missione che nessuno gliel'ha segnata. se l'ha segnata a lei stessa. Di avere una storia interessante da raccontare. E cioè, per carità, sei innamorata di una persona e hai avuto la fortuna di rincontrarlo. Ma non è che è la storia più grande, mai esistita, mai raccontata. Cioè, anche meno, Jennifer Lopez. Anche meno. Lei nel film fa vedere che durante il corso della sua vita che viene raccontata comunque sia attraverso piccoli episodi in cui lei è sempre o mentre balla o dentro quella fabbrica che è la metafora del suo cuore o sempre dallo psicoterapeuta. Cioè, o è a casa o è dallo psicoterapeuta. Non ci sono... E poi ovviamente si vede la fabbrica. Cioè, non andava a fare la spesa, non cucinava, non usciva con le amiche, niente. Cioè, lei voleva far credere che per vent'anni l'unica persona che frequentava era lo psicoterapeuta. Poi, non è che si vedono scene in cui nel film accade qualcosa. È soltanto pura riflessione. Cioè, cambia il background rispetto a dove lei racconta quello che le stava succedendo. Ma non è che si capisce che cosa stava succedendo. Cioè, è tutto quasi un monologo interiore. Voi riuscite a vedere il film e non capirne niente, ragazzi. Ma non è che questa cosa di non capirne niente ve la dico io perché non ho capito il film. Per come è impostato... Cioè, è impostato male. È impostato male perché vi dà qualche informazione, qualche dettaglio. Tu vedi lei sempre depressa, sempre disperata, poi a un certo punto incontra Ben Affleck che comunque sia eppure un'ombra. Nel film, figli, come ho già detto, manco a parlarne. Cioè, tu racconti 40 anni della tua vita e non menzioni il fatto che hai avuto dei figli, che sei diventata mamma, che questa cosa ti ha cambiato. Niente, niente. È come se fosse rimasta con la mentalità di quando aveva 12 anni ed è come se fosse ancora quella bambina di 12 anni con quel senso di esaltazione di se stessa, con quel senso di vulnerabilità. Nel film This is me now si vede che mentre lei segue la sua vita c'è l'oroscopo, ci sono i segni dell'oroscopo dassù, dal... Praticamente il film è fatto tutto con lo schermo verde perché ci sono scene di azione anche quando lei va sulla moto con Ben Affleck, pioggia, fulmini, insomma, c'è, ha spesso, 20 milioni perché giustamente ci sono un sacco di effetti e c'è tutta una troupe dietro. Tra i vari effetti lei ha chiamato tanti artisti importanti fra cui per esempio Jane Fonda, Sofia Vergara, Trevor Noah, Jennifer Lewis, Pat Gurchev, ha messo su un cast di persone veramente diciamo a livello artistico che contano, no? Kiki Palmer, Derek Howe che onestamente è un bel figlio che fa il terzo marito e praticamente in questo film si vede che ci sono i responsabili dell'oroscopo, i segni zodiacali di cui Sofia Vergara non mi ricordo se era il cancro Jennifer Lewis era i gemelli perché viene rappresentata doppia e praticamente loro stanno lì a vedere quello che fa Jennifer Lopez e a dire ah ma che cosa combini girl ma perché fai questo girl ah si è risposata no? lungo il corso della vita fanno i loro commenti nel documentario si vede quando lei chiama queste persone e ovviamente c'è molta ma molta insicurezza da parte di questi grandi artisti in particolare Jennifer Lewis si sente quasi offesa dal fatto di essere stata chiamata da Jennifer Lopez perché dice ma che cosa vuoi da me? io sono Jennifer Lewis io sono un artista non ho bisogno di venirti a fare il cameo da te quando lei chiama Jane Fonda Jane Fonda sta lì al telefono e quando lei le dice potresti fare questo favore potresti venire a fare dai per favore ci divertiamo soltanto un paio d'ore non hai un paio d'ore per un'amica a cui vuoi tanto tanto bene cioè molto anche narcisista se vogliamo e Jane Fonda molto insicura dice ma guarda io non so perché lo stai facendo che motivo c'è di farlo e lei sempre molto esaltata risponde eh sì perché è arrivato il momento che qualcuno lo dica è arrivato il momento per me la mia missione essenzialmente tutti questi artisti che fanno praticamente i dodici segni dello zodiaco poi li vedete nel film che non continuano a dire costantemente io non so quello che sto facendo io non ho idea di che senso abbia perché effettivamente il progetto non ha un senso logico perché anche a guardare il film non si capisce dove voglia andare a parare il film perché secondo me non è stata brava nell'esporre tutti quelli che erano i suoi pensieri cioè voi la vedete lamentarsi di quello che succede ma non vedete quello che succede quindi stai lì a vedere una donna che si lamenta e che dice ah perché la vita è triste la vita è difficile perché mi succede questo però non c'è l'oggetto della discussione quindi vedi lei ma non sai che cosa le succede e così è per tutto il film è una cosa assurda la prima parte del documentario tra l'altro si fonda tutta sul budget si focalizza sul budget essenzialmente lei produce questo film no? mette insieme tutto il cast la mano d'opera eccetera però poi non trova nessuno che lo vuole distribuire Netflix risponde ma perché noi dobbiamo comprarti un film con cui ti fai pubblicità all'altro film e te lo dobbiamo pagare ed effettivamente tu dici è un il documentario fa pubblicità al film essenzialmente sono uno la marchetta dell'altro perché il documentario ti dice come ha fatto il film ma è ovvio che lei l'abbia fatto perché in un certo senso ci metti 20 milioni lo devi fare cioè devi anche cercare di recuperare i costi cosa che non credo che stia avvenendo anche perché lei all'inizio non riesce a trovare la catena di distribuzione di questo film e quindi alla fine dice va bene lo finanzio io quindi così lei decide di metterci soldi di tasca propria il problema qual è? che attorno ai suoi collaboratori si è formato un clima di tensione e di terrore che in un certo senso ha instaurato lei perché ha veramente l'atteggiamento da diva di quella che ed è una scena che c'è all'interno del documentario in cui praticamente lei c'ha un tecnico di fronte e il tecnico sta parlando con la sua assistente e gli sta dicendo guarda dobbiamo ripetere le riprese dobbiamo aggiungere un giorno di riprese quindi questo verrà a costare 200 mila dollari in più lei è davanti al tecnico soltanto che siccome il tecnico gli sta dicendo una cosa che lei non vuole sentire praticamente si mette così e dice essenzialmente no no non voglio ascoltare non voglio sentire e il tecnico chiede all'assistente se può parlare con Jennifer Lopez ma Jennifer Lopez è davanti a lui cioè è una scena assurda e poi l'assistente gli risponde no no guarda non le puoi parlare perché al momento lei è irritata quindi se lo porta da un'altra parte e gli dice no non possiamo dobbiamo stare dentro al budget non può spendere 200 mila dollari in più queste cose non si possono fare cioè ma se vuoi il progetto fatto bene è normale male che quando prevedi un budget c'è uno sforamento del budget tant'è che esiste anche la parola con cui io riesco a dire sforamento quindi dico non è una cosa così assurda però lei no non ne vuole sentire parlare si è accollata la cosa di pagare di finanziare il suo progetto però poi non vuole saperne niente degli oneri c'è una scena in cui arriva tutto il materiale che essenzialmente serve per girare il film e lei entra sui camion e fa vedere a Ben Affleck il quale è dovuto intervenire praticamente sul set perché secondo me capiva che lasciando la sola questa combinava soltanto guai e fa vedere praticamente il materiale che c'era all'interno del camion dicendo guarda questo l'ho comprato io questo l'ho comprato io questo l'ho comprato io quanto mi è costato questo quanto mi è costato questo cioè zia ma l'hai voluto finanziare tu il tuo film che cazzo ti lamenti adesso metterci 20 milioni vuol dire 20 milioni sono soldi che cosa t'aspettavi lungo il corso delle riprese lei si sente molto spesso scoraggiata perché dice ah ma non so se questo progetto viene bene non so se funzionerà se risulta se si capirà e lì ovviamente Ben Affleck con tutto l'amore che un uomo sa dare alla propria donna e dice ma no guarda che non la devi prendere in questo modo devi andare avanti già il fatto che comunque sia lo riesce a completare è una vittoria eccetera eccetera questo scoraggiamento è anche dato dal fatto che giustamente lei balla all'interno del film this is me now ed è attorniata da una troupe da un corpo di ballo di ballerini nella media dell'età di un ballerino quindi 20 anni sente lei ovviamente fortemente questa differenza generazionale tant'è che in certe scene lei si guarda allo specchio e dice mamma mia queste rughe faccio di tutto per evitarle però non so come fare però Jennifer Lopez c'hai anche tu i tuoi 50 anni anche il fatto no di doversi allenare doversi riscaldare dover fare queste coreografie si vede dal film dal documentario The Greatest Love Story che lei fa fatica a stare dietro al ritmo di una ventenne perché c'ha 30 anni in più e quindi questa cosa la fa anche scoraggiare ma non fosse soltanto questo il problema qual è che questo è anche uno dei motivi per cui il progetto non sta funzionando che essenzialmente il film fa vedere questi balletti no che ricordano chiaramente avete presente tipo thriller di Michael Jackson no queste coreografie degli anni 80 anni 90 molto diciamo piene di movimenti movimenti anche molto significativi sono cose che comunque sia ormai non funzionano più che si facevano negli anni 90 non è un progetto da mettere sul tavolo nel 2024 dove ormai l'elettronica e certi modi di ballare sono stati superati ma ampiamente superati poi a maggior ragione cioè sei Jennifer Lopez hai una voce canonica sai cantare sai ballare però non sei Beyoncé non hai la voce di Cristina Aguilera non hai il genio di Lady Gaga stai portando semplicemente delle coreografie perché sono delle coreografie in cui lei balla insieme agli altri però onestamente il progetto anche ai miei occhi che non sono un esperto di coreografia o di musica risulta molto ma molto antiquato risulta di un'altra epoca e quindi uno spettatore che dice ma perché mi devo andare a vedere questo cioè è una cosa veramente cioè non è assolutamente al passo coi tempi ed è anche molto deludente perché tu dici ho aspettato vent'anni mettiamo caso se sei un fan di Jennifer Lopez ho aspettato vent'anni affinché Jennifer Lopez producesse un altro album e mi ritrovo con sta cosa che comunque sia già di contenuto è scarso perché che cosa mi stai parlando di cosa mi stai parlando di te della tua di come sei riuscita ad amare te stessa per carità brava molto positivo come messaggio però diciamo che non è abbastanza per coinvolgere l'attenzione poi parli di una storia molto particolare che è la tua di te che hai ritrovato il tuo compagno dopo vent'anni non è che diciamo è una storia con cui molte persone si possono identificare cioè lei con la mentalità è rimasta a quello è rimasta a quando soffriva probabilmente continua a soffrire e lei non c'è da giudicare la sofferenza di una persona perché se uno soffre soffre sta male punto però il problema è che se soffri non devi fare un progetto così ambizioso e pretendere che le persone lo paghino se soffri devi continuare ad andare dal terapeuta e continuare ad andarci finché non stai meglio perché questo progetto è la prova del fatto che non basta avere un nome per vendere le persone si aspettano un po' di sostanza si aspettano qualcosa di interessante e soprattutto qualcosa di attuale dalla sua voce alle coreografie un po' anche a tutto l'assestamento del progetto è tutto molto ma molto banale lo devo dire sinceramente onestamente questa cosa mi sorprende perché io non sono un fan di Jennifer Lopez di lei conosco soltanto le canzoni che sono usciti con i single in questi anni ma non mi aspettavo né di trovare questa personalità di lei molto diva molto esaltata eccessivamente esaltata perché a più riprese durante il corso del documentario lei parla di questo film come se fosse un progetto per salvare il mondo ma in realtà dici soltanto una tua storia banale e la dici pure male perché non si capisce quello che succede al suo interno nel suo cuore si vede soltanto che alla fine del film questo suo cuore riprende a battere perché si era fermato no? e si era spento e poi alla fine il cuore riprende a battere e gli continuano a dare petali di rosa che comunque sia per carità sì è una bella riproposizione metaforica ma è anche un po' infantile così come infantile comunque sia la sua mentalità ad un certo punto Ben Affleck che tra le altre cose la critica perché lei parla di questo film non come se stesse parlando di se stessa anche se comunque sia è evidente che sta riproponendo la sua storia però lei la propone come la storia di un'altra persona di una ragazza tra l'altro inizia con un mito portoricano di una donna che per amore per disperazione poi viene trasformata in una rosa e il suo amante in un colibri perché il padre di lei non permetteva che loro stessero insieme quindi sono stati trasformati in rosa e colibri in modo tale da poter stare insieme per tutto il resto delle loro vite innanzitutto lei nel disegnare il profilo della protagonista la fa di qualche anno in meno e Ben Affleck che si trova lì davanti erano sul divano gli dice ma perché stai descrivendo la storia di quando questa aveva 28 anni quando tu ne avevi 32 e lei tipo si incazza smette di parlargli e dice no che c'entra questa non è la mia storia è una rappresentazione no ti stai semplicemente diminuendo l'età e quindi già questa pure fa capire come viene a mancare l'autenticità quando lei poi gli racconta la storia lui dice ah ma allora è per questo che tu eri arrabbiata con me perché noi ci siamo lasciati ma io avevo capito che noi ci eravamo lasciati di comune accordo comunque sia gli fa lui mi potrai mai perdonare e fate conto che ha avuto tre matrimoni e due figli io ci tengo sempre a sottolinearlo due figli questi due figli fantasmi fantasmi mai menzionati cioè io onestamente a vedere il progetto della madre da figlio mi incazzerei tanto ragazzi perché dico cazzo sono tuo figlio non ho avuto nessuna importanza nella tua vita che tu parli di tutto di tutta la tua vita come se fosse stata semplicemente un errore dopo l'altro quindi io sono stato un tuo errore mio fratello è stato un tuo errore molto irriverente molto irriverente anche irrispettosa io onestamente mi lascia veramente basito non come lei parli degli ex perché l'ex magari dipende da come finisce una relazione ci sta che puoi provare il risentimento per un ex ma un figlio cioè un figlio dovrebbe avere un'importanza superiore ad un partner il figlio è un legame di sangue il partner sempre e comunque rimane un contratto è un estraneo diciamo noi in Sicilia questo comunque sia fa capire quanto quanto lei sia infantile perché lui le chiede mi potrai mai perdonare e lei dice no cioè come se veramente lei avesse in un certo senso proiettato in lui tutta la sua vita tutta la sua sicurezza e praticamente la sua vita adesso dipende da lui non ho le competenze per dirlo e non ne ho l'assoluta certezza ma qualcosa mi dice che il legame fra questi due non è un legame sano ma più che altro da parte di lei perché ha questa mentalità veramente immatura anche molto molto viziata molto viziata e profondamente traumatizzata ma ancora ora traumatizzata ed una cosa in particolare che mi ha dato molto fastidio oltre a questo discorso dei bambini è stato che lei le altre donne a parte Jane Fonda e Jennifer Lewis le dipinge come delle stupide Sofia Vergara che se non sbaglio era il cancro ma non mi ricordo viene rappresentata come una svampita che si guarda sempre le tette e io onestamente guardando l'ho detto ma perché Sofia Vergara si è prestata a fare questo anche perché lei gli artisti questi artisti importanti che sono andati soltanto per un giorno di riprese poi se ne sono andati cioè la maggior parte di questi se ne sono andati abbandonando il set dicendo ma io non ho idea cioè non sono sicuro di quello che abbiamo fatto e lei tipo li rassicurava dicendo no 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 ma non ti preoccupare poi tagliando li aggiustiamo eccetera quindi qualcosa mi fa pensare che tipo magari Sofia Vergara non era assolutamente d'accordo in tutto e per tutto di quello che stava facendo perché viene rappresentata come una svampita che dice cose stupide che sta attenta a mostrare le tette se comunque sia un segno dello zodiaco per quale motivo dovresti essere rappresentato in questo modo così irriverente qualcosa mi ha fatto pensare vedi Jennifer Lopez che stronza che è così irrispettosa nei confronti delle sue colleghe donne poi comunque sia manco a dirlo ovviamente alla fine riescono a trovare chi si accolla di produrre il film e alla fine del film lei incontra Ben Affleck i segni dello zodiaco sono tutti esultanti e si vede lei che sulla moto di Ben Affleck con Ben Affleck ovviamente che guida parte via verso l'infinito con il cuore all'interno della fabbrica che ritorna a pompare a battere io vi ripeto alla fine di questo sia del lungometraggio che quindi del documentario che del musical del film musical ho l'unica sensazione che ho è che rivolgo queste ore indietro perché ho guardato la sensazione di aver guardato essenzialmente una cosa inutile che non aveva motivo di esistere soprattutto non aveva motivo di essere finanziato con questo dispendio così enorme di capitale mi dispiace sicuramente che lei non sia riuscita a venderlo però zia c'è anche meno nella tua vita bisogna che innanzitutto ritrovi quali sono i veri valori della tua vita cioè magari sti figli li vogliamo trascurare di meno visto che ti lamenti tanto di essere una figlia che ha sofferto eccetera non menzioni i tuoi figli mi sembra una cosa molto grave io soltanto per questo boicotterei il cantante poi mi verrebbe da dirle trovati uno bravo ma non un professionista bravo a riprenderti uno bravo che sia in grado di metterti la testa a posto anche se la tua età non penso che ci sia più spazio per la speranza che per carità il messaggio di fondo è corretto tu devi imparare ad amare te stesso perché se non impari ad amare te stesso non puoi amare l'altro ed essenzialmente è questo il leitmotiv quando ho incontrato Ben Affleck ancora per la prima volta non avevo imparato ad amare me stessa ed è per questo che non ha funzionato siccome poi attraverso le difficoltà della vita difficoltà che ripeto non si vedono non capiamo che succede noi vediamo soltanto lei che si sposa si lascia si sposa si lascia uno ha avuto con uno ha avuto una relazione tossica si vede che loro discutono ma si vede la discussione non si vede il motivo per cui discutono che cosa lui le ha fatto eccetera eccetera si vede soltanto si vedono soltanto proprio i dettagli superficiali che non permettono di capire chi ha ragione chi ha torto cosa sta succedendo di chi è la colpa niente niente e poi alla fine attraverso relazione tossica dopo relazione tossica non si sa quello che c'è il lavoro che ha fatto su se stessa non si sa non si vede non c'è nessun dettaglio però comunque sia poi ritorna ad incontrare Ben Affleck e siccome nel frattempo ha lavorato su se stessa noi crediamo sulla parola ritorna anche ad amare se stessa e quindi può amare Ben Affleck il film lo potete trovare anche in streaming ormai sia il documentario che il musical se lo volete vedere a vostro rischio e pericolo io ve l'ho riassunto nei punti più salienti proprio perché in caso voi non ve lo vogliate vedere ma siete curiosi di sapere che cosa parla così almeno lo sapete se volete supportare il mio lavoro soprattutto dopo aver visto questo brobrio che mi verrebbe voglia di cavarmi gli occhi lasciatemi un like o un commento condividete questo video con una persona cara l'amica la cugina l'amante non lo so io non so se questo lavoro andrà nella rubrica delle recensioni o fra storie agghiaccianti perché potrebbe veramente stare bene in entrambe io vi mando come al solito i miei saluti e ci vediamo alla prossima recensione agghiacciante ciao ciao